questo è quello che succede all'incor quando no è solino ragazzi io sto pulo lì in a stamani madonna ho perso tutto mi hanno messo le manette mi hanno messo le manette prova a restare così taccio ma capito che succede qua c'è uno gioca per gli levano i piatti guarda rubano i piatti ma io non ci posso vedere questa è una manetta quell'altra là